Ora fare impresa è anche online. Digita fareimpresa.info Prima il decreto sulle energie rinnovabili, poi le problematiche create dalla nuova normativa sulla gestione dei rifiuti, il Sistri, e ora la riduzione dei fondi e dei risarcimento per i danni subiti dall'alluvione dello scorso anno. Forte il disappunto inconfartigianato per il ripetersi di decisioni di governo che creano disorientamento e che hanno un impatto molto negativo sull'operatività delle imprese. L'immediata protesta dell'Associazione degli Artigiani Vicentini è riassunta nella dichiarazione del Presidente Provinciale Agostino Bonomo. L'ordinanza della Presidenza del Consiglio, che smentisce le promesse e mortifica le attese degli alluvionati, ha detto, rientra nella consueta e inaccettabile abitudine tutta italiana di cambiare le carte in tavola. A nome delle imprese che hanno subito danni rilevanti, ha aggiunto, non possiamo non protestare di fronte alla prospettiva che i rimborsi vengano ridotti e che i fondi destinati alle indispensabili e urgenti opere idrauliche vengano attinti da quei 300 milioni stanziati in un primo momento. Con Fartigianato Vicenza sottolinea inoltre che la quantificazione dei danni è stata il frutto di una scrupolosa collaborazione tra privati e denti locali e che la decisione del Governo renderebbe del tutto mano quell'imponente lavoro svolto.